Assessore, LGNet2 ha reso la sua città una città più inclusiva? LGNet2 ha reso Taranto una città ancora più inclusiva perché è stato possibile, in maniera innovativa, dar vita ad una buona prassi, che è stata quella di includere dal punto di vista sociale, dal punto di vista lavorativo e anche economico, gli immigrati arrivati nel nostro paese.